Giulio quanto tempo ci abbiamo messo per fare questo video Sì, perché essendo ritornati nella sala 1 non ci ricordavamo nulla di come andava fatto il setup Esatto, va bene Quindi l'abbiamo sbagliato più e più volte Più e volte, meglio così Passiamo, passiamo qui perché proviamo il Mola Mola Cula Cula E ti do questo Grazie Perché te lo do Giulio? Perché, ve lo dico io, perché è la prima volta da quando stiamo sul canale Che Giulio si emoziona alle lacrime per un prodotto E' proprio per questo integrato della Mola Mola Integratino fantastico Lo diciamo subito Integrato che lavora in classe D Essendo la Mola Mola un'azienda olandese Filiazione della Ipex Quindi il progettista di Mola Mola è lo stesso progettista dei moduli Encore E che infatti si trovano qua dentro Beh ci mancherebbe Ci mancherebbe Tale Bruno Putzeis Esattamente Prodotto con un contenuto tecnologico pazzesco Assolutamente pazzesco Che proveremo nel poco tempo che abbiamo a disposizione a raccontare A spiegarvi Ma Cambiamo camera Con una anima Una capacità di trasmettere emozioni pazzesca Che effettivamente, lo dico, mi ha veramente emozionato A tra poco A tra poco Allora caro Giulio Parlaci un po' di queste tue emozioni Di questa tua forte introspezione vicino al mio alberello di Natale Il tuo alberello di Natale multicolor Esatto Multicolor lo anticipo Sì Vedremo a breve qualche altra cosa Esatto Multicolor All'ed Di ovviamente più raffinato Parecchio più raffinato Allora Cominciamo col dire che Questo integrato Racchiude al suo interno Il preamplificatore della Mola Mola Che si chiama Non me lo ricordo Non ce lo ricordiamo E continuiamo a non ricordarcelo Esatto Però invece racchiude anche Dei moduli di amplificazione Anzi un modulo di amplificazione Che è la rivisitazione del modulo che si trova Negli amplificatori monofonici Caluga Della stessa azienda Esatto Che non è quello che si trova sul sito internet Che non è Assolutamente Allora Mola Mola Utilizza moduli Ipex Ma non sono quelli che potete acquistare Sul sito do it yourself Della Ipex Sono moduli molto E ci mancherebbe E ci mancherebbe Ho tenuto conto che il vecchio Il vecchio È uscito da un po' di tempo Comunque ancora in produzione Caluga monofonico E eroga 400 watt Sì Laddove questo qua Ne eroga 180 su 200 200 su 8 Circa la metà Circa la metà Ecco quindi insomma È stato molto rivisto Rispetto a quel modello lì Peraltro è stata completamente ridisegnata Tutta la parte di controreazione Parte di controreazione Che si abbina In qualche maniera Anche con la circuitazione del DAC Esatto Quindi il DAC interno E la sezione di amplificazione Sono in qualche maniera complementari DAC interno che è È mutuato dal Makua No Tambaki Dal Tambaki Che è Makua Il preamplificatore Si chiama Makua Allora però Diciamo una cosa Questi sono tutti i pesci tropicali Pesci tropicali Adesso io non ho veramente idea Del perché Questa passione Il marchio che sta passando È proprio un pesce stilizzato Un pesciolino stilizzato Quindi il DAC Che si chiama Tambaki Che è il prodotto più venduto In assoluto Della Mola Mola È integrato all'interno del prodotto Ma il prodotto Lo potete comprare Solo amplificatore integrato Per 12.000 euro Si Poi potete comprare Il modulo Fono Di cui parleremo tra poco 2000 2000 e 2 Credo E che da poco È diventato anche Un componente separato E potete comprare A parte anche Il DAC Che costa 7.000 euro Circa 7.500 7.700 E quindi potete comprare Solo l'integrato E poi dopo gli upgrade Oppure comprare tutto insieme Ho detto questo È evidente Stiamo parlando di un apparecchio Molto costoso Esattamente Perché stiamo parlando Di un apparecchio A pieno titolo Di fascia Altissima Quindi Siccome Stiamo entrando In una nuova fase Di audio 2G Dove Parliamo anche Di apparecchi Costosi Se Gli apparecchi costosi Vi infastidiscono E purtroppo In questa Mettete pausa E cambiate Esatto Tra poco Tra l'altro Faremo anche una sigla Faremo sì esatto Per Diciamo Rendere immediatamente Riconoscibili I prodotti High end Dai prodotti Non high end Ovviamente Qui Lo ridiremo poi Nelle considerazioni Relative all'ascolto Stiamo parlando Di un prodotto Che è effettivamente Molto caratterizzato Proprio Sulla fascia Estrema Vedremo anche Che i contenuti Tecnologici Che lo caratterizzano Giustificano Secondo noi Ampiamente Esatto E poi c'è da fare Una considerazione Che all'interno Del mercato Degli integrati High end Questo è tutt'altro Che un integrato Costoso Anche se vi sembrerà Assurdo Quello che diciamo Ma non è assolutamente Quello che costa di più Allora Se lo andiamo a confrontare Ad esempio Con altri integrati High end Che abbiamo avuto Modo di provare Ad esempio Griffon Diablo Solution 330 E quelli Sono parecchio Più costosi E questo Se la batte A darmi pari E su certi Aspetti Forse può dire Qualche cosa in più Che cos'è che ti piace tanto Anche a me Allora Torniamo al prodotto Dunque Intanto Questo prodotto Noi lo abbiamo ricevuto Full optional Quindi lo abbiamo ricevuto Con il modulo DAC E quindi con la Piattaforma di streaming A bordo Ha una porta Ethernet Che poi vedremo E collegato Alla rete Rete nella quale C'è un server RUN Che è questo qui L'antipodes Immediatamente Viene visto da RUN E la cosa fantastica È che L'integrazione con RUN È talmente Sofisticata E raffinata E raffinata Che permette di fare Accensione e spegnimento Da dentro RUN Per cui Questa macchina Dà la condizione di Sleep Perché non ha Un interruttore generale La potete accendere E spegnere Direttamente da dentro Ma con una finezza Cioè Non è che dovete Accendere E premere play Quando premete play Si accende Si accende Fa il wake on LAN In una maniera Iper Iper sofisticata Altra caratterizzazione Di questa macchina Stranissima Come vedete Sul frontale E lo vediamo Nell'immagine Ingrandita Ci sono sei pulsanti Tre ingressi E uno dice Oibo Come è possibile In realtà Questi pulsanti Che non sono Identificati Da una scritta Corrispondono Ad altrettanti Preset Che cos'è un preset Un preset È una cosa Che si gestisce Attraverso la app Mola Mola Ed è Sostanzialmente La configurazione Del ingresso E di cosa L'ingresso Deve O può Fare Esatto Quindi posso Fare Ingresso 1 Fono MM Ingresso 2 Fono MC O ingresso 1 Fono MC Ingresso 2 Fono MC Ma con caratteristiche Con caratteristiche Completamente differenti Ad esempio Io ho attribuito A un preset Questo qui Che è il numero 1 La piattaforma di streaming interna A un altro preset Che se non ricordo male È il numero 3 Ho attribuito Un ingresso Bilanciato Che è il playback Che è il playback Ovviamente entrambi Possono dialogare con Rune Ah quello che però Ci siamo scordati di dire Ma che lo dovevamo dire È che dentro c'è Dentro di base Quindi non da comprare a parte C'è la piattaforma di streaming Fatta con il nostro amico Rupie Rupie È una versione custom Di Rupie Che fa fare a questa macchina Sostanzialmente Soltanto la funzionalità Di Rune Bridge Per cui non è E questo è un po' una pecca Secondo me Non è ad esempio PNP di LNA compatibile E questo a Bruno Lo dobbiamo dire Sì anche perché Secondo me Essendo basata su Rupie Basterebbe ben poco Per Quasi quasi mi verrebbe in mente Di sfilare l'SD card E mette scena un'altra E mette scena un'altra Ok Altri aspetti caratteristici Dunque la macchina È dotata Di una sessione preamplificatrice Che è quella Del Abbiamo detto Già me lo so dimenticare Makua Makua Che è effettivamente Assolutamente Eccezionale In termini di trasparenza Poi lo diremo meglio Nell'ascolto Ma questa macchina Appena l'ascoltate Ha una capacità Pazzesca di entrare Nel dettaglio Senza aggiungere Nulla di suo E come dire Conferendo all'ascolto Una luminosità Sconcertata Ecco E devo dire su questo Sconcertata Poi lo sventreremo Non vedo l'ora di farlo Potrebbe essere Stato progettato Da qualcuno Che ci capiva Molto di telecomunicazioni Perché Sia il sistema Di gestione Degli ingressi Che il potenziomato Del volume Sono fatti Con dei sistemi A matrice di relay Sì Quindi il volume È un sistema Con 14 relay A canale Che inseriscono Una resistenza Sola Sul percorso Del segnale E tutti sappiamo Quanto sia importante Che il controllo Del volume Sia il migliore possibile Proprio per la trasparenza Quello che dicevi tu E dall'altra C'è questa gestione Degli ingressi A matrice Estremamente comoda E che secondo me È stata progettata Da qualcuno Che di telecomunicazioni Ne capiva particolarmente Perché mi sembra proprio Di sapere Di cosa parliamo Anche perché Io vengo Dalle telecomunicazioni E dalle centrali Analogiche Che erano A relay Quindi conosco molto bene Quel tipo di logica Ma lo vogliamo sventrare No Un attimo Prima di passare Allo sventramento C'è una notazione Che mi piace fare Di natura Veramente Meramente estetica L'oggetto È bellissimo Peraltro per chi ha Un po' di Come posso dire Passione E attenzione Per La metallurgia Per il come Si fanno le cose Faccio notare Che l'elemento Che costituisce Il pannello frontale Che è comunque Non dritto Ma concavo E il coperchio Concavo Converso Quindi questa cosa Che richiama L'idea delle onde Sono fatti In un unico pannello Cioè non sono Un coperchio E un frontale Che si Chiudono sull'angolo È un unico elemento In fusione Cosa veramente Meravigliosa E tra l'altro Io trovo molto bello Dal punto di vista Proprio formale Questo dialogo Fra L'elemento laterale Squadrato Qui c'è un angolo retto E quest'elemento Invece curvilineo E con l'elemento Laterale Colore antracite Che arriva Fino a toccare terra E costituisce L'elemento di appoggio Dell'amplificatore Quindi anche dal punto di vista estetico Questi Mola Mola Sono qualcosa di nuovo Insomma l'architetto Che è dentro Sì l'architetto È stato fortemente appagato Sì 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 L'architetto che è in me Perché poi alla fine Quello sono E è stato proprio risvegliato In questo In questo senso Ok Vogliamo sventrare Che dici Io tremo Tremo Vai 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 Metti pausa Pausa Ciao Vediamo subito La sezione di alimentazione Vedete questa linea bianca Questa linea bianca Non fa altro che suddividere La parte di alimentazione Dalla parte di potenza Questo è infatti Il finale Encore Lo possiamo vedere Ed è il finale di potenza Da 200 watt circa Per canale Di cui abbiamo parlato Mi sposto un pochino O per farlo vedere Esatto Facciamo vedere anche Quello che è un loro vanto Cioè i due pezzetti Di cavo Della Cuba Cubala sosna Esatto Con i quattro morsetti Furutec Per i diffusori Guardate qui Che meraviglia Un, due, tre, quattro Morsetti di alta qualità Ok Alimentatore Che è fatto in tre parti Perché c'è Questo trasformatore Che fa solo Le sezioni finali E poi ci sono Questi due trasformatori Uno fa la sezione A 5 volt E 12 volt digitale L'altra fa la sezione Di preamplificazione Ok Procediamo poi Questo è il modulino Bluetooth Modulino Bluetooth A bassa energia Che serve esclusivamente Per la app Della Mola Mola Che serve per gestire Il preamplificatore Una finezza bellissima Sono queste Fibre ottiche Ecco qui Qui dietro c'è il led E poi viene portata La luce attraverso Una fibra ottica E facciamo vedere Poi Giulio Sul pannello frontale Ecco qua Che cosa vuol dire Questo microscopico Puntino luminoso Veramente bello Ecco adesso lo cambio Ecco E vediamo che dietro Ecco qua Si è accesa Un'altra fibra Benissimo Poi Andiamo avanti Questa è la sezione Digitale Sotto questo schermo C'è il microcomputer Dove abbiamo detto Eserci un Un rilascio di lupie Questo fa anche Da ingressi digitali Qui abbiamo Il cavo Ethernet E qui abbiamo Il cavo USB Se seguiamo questi due cavi Che vanno qua sotto Finiscono in questa schedina Qua Eccola qua Magari gira Ah eccola Fai vedere così Vuoi che gira un po'? Pochino Si Giro così E questa è Una scheda che è Ingresso USB B Come DAC ASEBU Ottico E Ethernet E' probabile Non ne sono certo Ma è probabile Che gli ingressi ASEBU Ottico E ovviamente Ethernet Vengano tutti Tradotti in Ethernet E invece L'USBB Eccola qui Venga solamente Passata Sulla scheda E finisca dentro Alla scheda digitale Ho da ricordare Che sul posteriore Magari lo faccio vedere Nella sezione Degli ingressi digitali Ecco Manca Il coassiale Esatto ASEBU USB Ottico Ethernet Esatto Visto che stai qua A questo punto parliamo Della sezione di preamplificazione Caro Giulio L'unica cosa che bisogna fare Col ditino E' quella di Spostare Tra Ingresso Sbilanciato E ingresso bilanciato E questo va fatto per forza Col dito Ok Questa è l'unica cosa Che va fatta col dito Tutto il resto Può essere fatto via software Questi tre ingressi Scusate la mano Corrispondono dietro Alle due sezioni Di preamplificazione Facciamone vedere Eccole qui Quindi questo E' una cosa che In qualche maniera Differenzia Rispetto Al pre Della Mola Mola Perché quello A sei Ingressi In questa E' una versione Se vogliamo Un po' ridotta Un po' ridotta O la La cosa Splendida Pazzesca E' il controllo Del volume Che avviene Attraverso 14 Relais Per canale Che stanno Qui E lì sotto Non so se è possibile Vedere Che questi Relais Sono schermati Con uno schermo Che sta qua sotto Eccolo qui Forse si riesce Appena appena A vedere Lo schermo E questo qui Lo sto toccando Adesso è vicino Al connettore bianco Ok Sentite il rumore Che fanno Questo perché Perché questa E' una matrice Di relay Che inserisce Lo voglio far risentire Perché a me Piace da morire Che inserisce Solamente una resistenza Sul percorso del segnale E le resistenze Stanno qua Queste sono resistenze Di altissima qualità Con una Bassissima tolleranza E un gradiente termico Eccellente E che vediamo Anche nei DAC R2R Che hanno come caratteristica Quella di Di dover avere Delle resistenze Particolarmente precise Questo volume In modo molto originale E' attuato Attraverso Lo giro Eccola qua Questo che è un potenziometro Motorizzato Vedete E' un potenziometro Normale Motorizzato Dove però Il valore Di resistenza Corrisponde Con un valore Nel quale Si devono trovare I relay Quindi è Una interpretazione Davvero Originale Di controllo Del volume Difficilmente Avevo visto Una cosa del genere Molto molto Originale Passiamo adesso Ad una Delle Dei flagship Della Parlo bene In inglese Della Mola Mola Che è il DAC Che è questo qui Costituito da due schede Da due schede Vai Giulio Ne vuoi parlare tu? Ricordiamo il fatto Che anche Mola Mola Non utilizza Un chipset Assolutamente Commerciale Quindi non c'è Il discorso AKM SS Quella roba lì È una soluzione Custom Che si basa Sostanzialmente Su una scheda Superiore Che è quella Che vedete Questa qua Dove c'è Una parte Che è clock Che è questa Questa qui E l'altra parte Invece Che costituisce Le due unità Di sovracampionamento Cioè Tutti i segnali Digitali In ingresso Vengano sovracampionati A 3125 32 bit 32 bit Dopodiché Viene tutto Trasformato In Un segnale A Pulse Width Modulation Esatto PVM PVM Oh e vediamo qui L'uscita Left Vedete PVM Eccolo qua Scritta Left Right E questo è il clock Che vanno Nella scheda di sotto La scheda di sotto Non fa altro che Decodificare Questo segnale Attraverso Dei filtri Fir Esattamente Quindi la parte sotto È dedicata Fondamentalmente Al filtraggio Esatto Oh interessante Notare Che La soluzione È una soluzione In grado di essere Aggiornata Quindi Dal punto di vista Della Compatibilità Ecco Della Obsolescenza È a prova Secondo me Di bomba Per i prossimi Dieci anni E peraltro Gli aggiornamenti Avvengono Via Via rete Quindi in maniera Estremamente efficace Oh Poi c'è La scheda Fono Che è ancora Questa qui Che è una specie Di miracolo Perché la scheda Fono Non solo C'è oltre 50 Quante c'è 76 76 Curve ria Diverse Curve non ria La ria più curve Di equalizzazione Varie Scusate Quindi curve Varie E anche Ovviamente La possibilità Di cambiare Impedenza E resistenza Di carico Della testina E guadagno E guadagno Anche perché Appunto MCMM Esatto Questi relay Servono per attuare Tutto questo Perché Attuare 76 Hai detto Curve diverse Non è facile Perché è Un matching Tra valori diversi Di filtro E quindi Viene attuato Attraverso tutti Questi relay Che vedete Un'ultima cosa Volevo far vedere Che è proprio Una finezza Questa Allora Da qui Giulio Da qui Escono tutte Le alimentazioni Del preamplificatore Delle Delle sezioni varie Di DAC Digitale Di preamplificazione Queste sezioni Vengono passate Come vedete bene Sotto Perché qui C'è uno schermo In alluminio Tutto un plate In alluminio E sotto questo plate In alluminio Passano i cavi Infatti Se facciamo vedere Il buco Qui Facciamo vedere Il buco Che sta qua Allora Vedi Sì Esatto Esatto Quindi passano Per motivi schermanti Passano in quel doppio fondo Passano nel doppio fondo Che poi Corrisponde con Il coperchio Perché noi qua Lo stiamo guardando Tutto quanto Sotto sopra Cioè noi abbiamo Rimosso il fondello E quindi la macchina E quindi la macchina è capovolta Corrisponde E quindi poi Vengono portate Attraverso dei fori Che sono fatti In questa sorta Di doppio fondo E qui solo Possiamo vedere Luce Perché è talmente ordinato Che non si vede Solo qua Si vede che esce un cavo Da laggiù Ed entra dentro Questa scheda Eccolo 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 Sì È una finezza estrema Vabbè Realizzazione Pazzesca Secondo me Pazzesca Veramente Perché a parte La parte è Di un'originalità Di una sofisticazione E di una ingegnerizzazione Che a me Difficilmente Forse mai Mi è capitato di vedere Va bene Complimenti A Mola Mola Vogliamo far vedere Come si spegne E si accende Tutto l'albero di Natale Con tutti i led Di servizio Facciamolo Facciamo Ah proprio brutale Così Che così È spento Sì Non c'è Un interruttore Esatto Non c'è Un interruttore Di alimentazione Questo è lo stand by Dallo stand by Eccolo qua E poi Selezioniamo l'ingresso Eccolo qua Luci e lucine Neanche fosse L'albero di Natale Bene Ok Grazie di tutto Ciao All'ascolto Allora Giulio Prima di tutto È il 23 Quindi facciamo Gli auguri Di Natale Ai nostri Fellow Come mai Come mai Tu non hai il cappello Perché L'ho dimenticato Sul tavolo E adesso Dovrei interrompere La ripresa E francamente Non lo facciamo Non ne ho voglia Anche perché Dobbiamo Dobbiamo affrontare Un argomento A te Molto caro Cioè L'ascolto Di questo Splendido Amplificatore Integrato Allora Posso dire una cosa Noi È quasi due anni Che abbiamo Intrapreso Questa avventura E io ero Abituato a vedere Il tuo impianto Principale Quindi la sala 1 Piena di prodotti Perché c'erano Due finali LAM In classe A Enormi Un pre A due telai Sono venuto Qui E mi sono trovato Meno della metà Dei prodotti Che c'erano prima Ma ti ho trovato Molto più allegro Però Assolutamente Ecco Allora Io questa cosa L'ho scritta In un articolo Che verrà pubblicato Su Audiogallery Ma è una cosa Che fa riferimento A Come dire Al mio percorso Audiofilo Io dopo tanti anni Di Come posso dire Gratificazione Ad avere davanti agli occhi Tanti oggetti L'ho definito Quasi un aspetto Identitario Cioè Sono audiofilo E quindi Dentro casa Ho tante cose Probabilmente Me le sono godute Abbastanza Io adesso Non voglio Non voglio dire Però io Quello che adesso Vado cercando È semplicità Quello che vado cercando È tornare a casa Schiacciare un bottone E ascoltare Molto bene La mia musica Non che questo Corrisponda A un desiderio Di Peggiorare la qualità A parità A parità di qualità Voglio che la vita Sia semplice E quindi Questo Integrato Un po' come Tutti gli integrati Va esattamente In questa direzione Massima semplicità Tra l'altro La cosa che a me Affascina particolarmente Nel discorso Nel discorso dell'integrato È che Non c'è più Quell'ansia Tipica Dell'audiofilo Di dire Ma L'accoppiamento Che ho fatto Fra pre e finale Di marca A E di marca B Andrà bene? Ah certo Il cavo Il cavo di collegamento Fra pre e finale Andrà bene? Il DAC Tra DAC Pre Qui c'hai Una situazione In cui Un progettista Bravo Ha fatto Tutto E quindi Tu già parti Sapendo che L'ottimizzazione Se l'è curata Non Uno qualsiasi Il progettista E se tu ti fidi Del progettista Ti senti In qualche maniera Tranquillizzato Pensa poi In quest'ottica Quanto si risparmia Perché Comunque Perché i cavi di collegamento A un certo livello Sono molto cari Si cambia Spesso Ma perché Il ripiano Le mensoli Su cui poggiare Il tavolino Porta elettroniche Cioè Diventa tutto Estremamente più semplice Per non parlare Del fatto Che La cosa di cui Mi sono reso conto Ho amato Alla follia I miei finali monofonici Ma non avere Un metro cubo Di roba Accanto ai diffusori Ha migliorato L'acustica Certo Decisamente Scaldano Quindi l'estate Neanche Quelli Quelli Diciamo D'estate Era impensabile Però questo prodotto Permettimi Io lo vedo Non solo Per l'audiofilo Come puoi essere tu Appagato Da tutte le sue esperienze Insomma cominciano a esserci Anche i millenials Quindi chi lo sa Se qualche millenials Particolarmente Facoltoso Possa Prendere in considerazione Un prodotto del genere Che veramente Fa sognare Perché adesso Parliamo del suono Sì Parliamo del suono Dico soltanto una cosa Io temo che Per questo prodotto Giochi A suo sfavore Il fatto di Non essere un marchio Particolarmente conosciuto Presso i non addetti ai lavori Presso il pubblico generalista È chiaro che Quando uno parla Di marchi Blasonati Conosciuti Vabbè Magari ci si può avvicinare Anche L'appassionato di musica Che dice Vabbè Mi compro un oggetto Bello Ben suonante Definitivo Quando si parla Di un marchio Come Mola Mola Ecco Per me Mola Mola È una garanzia Magari per qualcun altro Che non l'ha mai sentito Rischia di essere Un po' Un deterrente Dunque Per quanto riguarda Il suono Intanto A me ha colpito Particolarmente Nell'abbinata con Lecaia 90 L'ariosità Del suono È un suono Arioso Con tantissima aria Fra gli strumenti Ma È uno degli amplificatori E ne sono passati tanti In questa sala Che ha saputo Nella maniera più Poetica Mi verrebbe da dire Riuscire Non solo A A distanziare Per bene I piani sonori Ovviamente Mi sto riferendo A registrazioni Ben fatte Parlo ad esempio Di musica sinfonica Registrata Come Dio comanda Ma anche A dare Una luminosità E questo Per me È quasi Incredibile Tra Strato E strato Tra profondità E profondità È come se avesse Se volessimo Utilizzare Un'analogia fotografica Una Incredibile profondità Di campo Per cui tu hai A fuoco Da molto vicino A molto lontano Ma Più vai lontano Meno perdita Di dettaglio E poi mi viene Mi sento quasi Imbarazzato A parlare Come i nostri Come molti Dei nostri follower Vorrebbero Per Porzioni di spettro Perché qui Non c'è Questa cosa Qui è musica Qui è Quello che È quello che Stai riproducendo Nel migliore dei modi Non hai proprio La sensazione Di essere attratto Dall'uno O dall'altra Porzione di spettro Perché magari O è più avanti E più indietro Qui è tutto Giusto Quindi dire Che il basso Eccola E che il Medio alto Eccoli Non Non mi corrisponde Non corrisponde Allora Qualche giorno fa Abbiamo fatto Un ascolto Subito dopo Aver Ascoltato Presso l'auditorio Un parco della musica In Roma Il requiem tedesco Di Brahms Che è Per chi non lo conoscesse Una composizione Dove c'è Un enorme coro Quindi Avendo nelle orecchie Quel coro Visto dal vivo Ci siamo poi Approcciati All'ascolto Riprodotto Dello stesso Requiem In questo impianto Quello che Mi ha stupito Era proprio La facilità Con cui Si distinguevano Le voci maschili Dalle voci femminili Le varie parti Assegnate Ai singoli pezzi Del coro E la percezione Che questo coro Stava dietro E la percezione Invece Che l'orchestra Stava davanti Con le varie parti Sistemate al posto giusto Ma Quando entrano Ad esempio I timpani Perché c'è una parte Molto importante Dei timpani Questi timpani Erano Immediati Profondi Imperiosi Subito dopo Siamo passati Ad un ascolto Di jazz E anche lì Un contrabbasso Scolpito Delineato Al posto giusto Rispetto al pianoforte Che stava Più in avanti E più spostato Da questa parte Ma entrambi Timbricamente corretti Cioè Viene difficilissimo Con un amplificatore Di questo genere Dire E' molto adatto Alla musica elettronica E' molto adatto Alla musica Esatto Punto Esatto Ovviamente Senza Nessun tipo Di problema Di capacità Di pilotaggio Perché qui stiamo Pilotando due Kaia 90 Che ricordo Ai Fellower Hanno quattro Woofer da 16 A cassa E non abbiamo mai Avuto nessun problema Quindi Ora E' anche Vero Che questo Non è un ambiente Grandissimo Ma Vi assicuro Che hanno ceduto Molto prima I nostri Timpani Rispetto all'impianto Insomma Se uno vuole Ottenere pressioni Importanti Con questo amplificatore Le ottiene sicuramente Ho Una cosa Che mi ha colpito Non me lo aspettavo L'amplificatore Scalda abbastanza Cosa che per un classe D Non dovrebbe essere Però se Dopo che uno L'ha fatto suonare Allegramente Per un po' Mette la mano sopra Non è rovente Però Scalda E devo dire anche Che Appena acceso Suona Leggermente peggio Anche questo amplificatore Ha bisogno di un quarto d'ora 20 minuti Per esprimersi Al suo meglio Del resto I semiconduttori Devono raggiungere Una certa temperatura Per Affinché conducano Al meglio Quindi questo Non è che Ci vuole uno scienziato Per capirlo E' così Giulio Che dire Prodotto bellissimo Ripeto Ancora una volta Io sono consapevole Che ci sarà qualcuno Molti probabilmente Che storceranno il naso E' chiaro Qui il prezzo E' un prezzo Importante Allora Cito Non voglio fare pubblicità La concorrenza Ma non la considero concorrenza Lo considero un riferimento John Darko Il quale John Darko Rispetto a questo amplificatore Quando lo recensì Disse una cosa giusta Sono passioni Tanta gente Spende 12 mila euro Per comprarsi L'automobile Con 12 mila euro Non compri una bella automobile Compri un'automobile Basica John Darko Dice io non sono uno Ricco Vado con l'autobus La macchina Non ce l'ho E mi compro questo qua Esatto Si tratta di Allocare il budget Pure questo Potrebbe essere un Una considerazione Tutti coloro Che faranno Sul prezzo In particolare Dei commenti sgradevoli Non gli rispondiamo neanche Perché tanto Il prezzo L'abbiamo detto prima Eccomè Eccomè Ripeto Se lo considerate Immorale Potete passare oltre Tutto qui Ma scusa Ti posso fare una domanda Si Perché una Porsche A 100 mila euro Non è immorale Io questo non lo so Perché una Ferrari Da 150 mila euro Che se l'è comprata È fico Perché un orologio Da 60 mila euro È fico Perché un ristorante Da 500 euro A cena È fico Bravo E poi Per esempio Con tutto L'enorme Speculazione Che si sta facendo Sui orologi Perché un Rolex Non è Un Daytona Non è un grandissimo Orologio Non è il mio settore A me piace A me piace A me piace dal punto di vista Strettamente di manifattura Eppure tutti sbavano Per un No E allora Diciamo Sinteticamente A noi piace questo Se vi piace anche a voi bene Se no Youtube Amici come prima Amici come prima Va bene Giulia Allora Aspetta aspetta Non ho finito Siccome Questo dovrebbe essere Il tuo regalo di Natale Che Che annulla tutti i precedenti Che annulla tutti i precedenti Ma io non me lo posso permettere Sì Ti regalerò Una effigie Con Il 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 marchio di Mola Mola Questo mi piace Questo è già qualcosa Questo è già qualcosa Va bene Grazie Allora Subscribe Campanella Tanti auguri Tanti auguri Tanti auguri Continuate a seguirci Noi anche durante le vacanze di Natale Riusciremo a postare qualche cosa Esatto Quindi Proviamo a fare A farvi compagnia durante le vacanze Ciao